Coronello, si parla tanto in questi giorni, in queste settimane di garantire al gelese il lavoro vero, però purtroppo in città e nel comprensorio prolifera il lavoro nero. Come la DIA sta fronteggiando questa situazione? Chiaramente il lavoro nero è e resta un problema atavico nel meridione d'Italia, perché finché le aziende riempiranno i loro gap di efficienza e di competitività, non migliorando i loro processi produttivi, ma semplicemente ricorrendo al lavoro nero e quindi risparmiando sui contributi e sulla pelle dei lavoratori, il problema è e resta grosso. La DIA contrasta questo attraverso il monitoraggio delle aziende, ogni qualvolta le aziende si affacciano, per esempio nel settore degli appalti pubblici, ma anche nelle grosse opere, soprattutto quelle che sono in qualche modo vincolate a dei protocolli di legalità, con il controllo ferreo dei cantieri, delle maestranze, degli accessi ai cantieri, per fare in modo che almeno le grosse opere, soprattutto quelle che vengono finanziate con fondi pubblici, almeno quelle abbiano maestranze assolutamente in regola. Non vorremmo che con la chiusura dello stabilimento qualche operaio venisse sedotto dalla criminalità organizzata? Storicamente la criminalità organizzata ha sempre pescato nella disponibilità di mano d'opera a basso costo, nella disperazione delle persone e in parte anche ovviamente nell'ignoranza di chi pensa che il guadagno facile sia comunque un obiettivo e non si ponga mai il problema delle conseguenze che ci possono essere dietro. Va detto che il lavoro non può essere creato dal nulla, il lavoro deve essere un investimento di sistema, per cui la politica, le istituzioni, la società civile si deve impegnare affinché lavoro e cultura del lavoro legale diventino un valore di tutti e non possono essere soltanto piovuti dall'alto perché magari lo Stato interviene appioggia controvidenze o regala lavoro. Ma già ci sono stati dei casi che qualcuno sia stato sedotto dalla criminalità? Beh, purtroppo casi di questo genere sì, ci sono sempre. Nelle operazioni di servizio in cui si aggrediscono clan criminali c'è sempre il caso del ragazzo nulla facente che si fa sedurre dalla criminalità piuttosto che alle volte anche il lavoratore che ha perso il posto che non riesce a trovare alternativa e che si fa sedurre dal guadagno facile di aziende criminali piuttosto che addirittura della criminalità spicciola.